Ciao giovani bentornati sul mio canale oggi siamo con un altro video su gta 5 questa volta andremo a fare una cosa abbastanza carina ovvero vedremo se diventerà abbastanza carina avete presente la missione di trevor labirinto di cristalli o di cristallo dove trevor deve dar fuoco quella fattoria quella villetta ecco oggi cosa andremo a fare oggi proveremo a spegnere l'incendio oppure proveremo a chiamare i vigili del fuoco per vedere se l'incendio può essere spento oppure no innanzitutto mi scuso per la voce che sono abbastanza raffreddato andiamo a vedere un po cosa succede se proviamo a fare questa cosa prima di tutto andiamo in partitozza di gioco a missione principale e andiamo sulla missione eccolo qua labirinto di cristallo allora eccoci qui nella missione quello che dobbiamo fare come prima cosa è procurarci un mezzo dei vigili del fuoco quindi dobbiamo scatenare l'inferno per dar fuoco un po tutto qua tutto un macello e dobbiamo procurarci sto coso perché sennò come ce lo procuriamo allora uno vai fuori popu caput eccolo eccolo ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua non lo so mi stavano un po' antipatici allora prendiamo questo bel mezzo e andiamo nella villa dei O'Neils O'Neil o come si chiamano No, 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 no. Non vorrei che dopo il gioco mi leva il mezzo, capi? Non so dove me lo metto. Vediamo che lo metto qua con me, qua sopra, poi vediamo. Oh, già stavo dicendo che bastardo mi ha levato il mezzo, mamma mia. Allora, iniziamo a metterci all'opera. Mirino avanzato e silenziatore, vai, senza farci sgamare. Non mi sono una stanza, mi richiede il suo tempo. Le due, le due, le due. Ehi, giocati. Ok, scopo. Et voilà. Ora non ci resta altro che andare lì, però non mi fido di rimanere il mezzo qua, quindi prendiamo il mezzo e andiamo lì. rimanere il mezzo qua. E speriamo bene. Grazie a tutti. Mi sono andati pronti. Ansybra. Grazie a tutti. buono wow vai giù ah eccolo già stavo dicendo non c'è il mezzo vai giù raccomando andiamo a correre là sali sul mezzo oh no speriamo 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 oddio chissà che succede no no cazzo ha cambiato no 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 questo non mi fa trovare più il mezzo cazzarola no 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 non scherzare proprio si 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 quasi 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 vediamo un po' che succede sono proprio pieno d'ansia per provare sta cosa ma che allontana io devo spegnere il fuoco vedi oh facendo pure le sirene per fare tutto più realistico e vola wow no vai giù no non si spegne non si spegne l'incendio dai che cazzata no dai no non ci credo wow no cioè manco per sogno spegne le fiamme vabbè però non c'è i vinciti del fuoco invece wow ci hanno tolto pure il contatto per non chiamarli vabbè che tanto pure se poi venivano manco lo spegnevano già ci ho provato io quindi che cazzata però ci sono rimasto un po' di merda pensavo che comunque potevo spegnerlo il fuoco va ma veramente è proprio vabbè comunque è logico il gioco deve andare così non è che può tradire la sua logica il gioco perché comunque ha un disegno ben preciso il gioco e vabbè e vabbè come avete visto il nostro piano è fallito ovvero noi non siamo riusciti a spegnere l'incendio nella nella fattoria di O'Nails però almeno ci abbiamo provato come sempre vi ricordo di lasciare un like un commento e di iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto noi ci vediamo al prossimo video ciao adiu ciao